Campora San Giovanni apre la strada, la strada della Sagra di Qualità in Calabria è la prima manifestazione oggi qui al Senato dove la Calabria finalmente partecipa, ma noi speriamo dall'anno prossimo di avere veramente altre proloco che hanno capito il senso e l'importanza di una manifestazione di questo genere, di un riconoscimento di questo genere proprio perché la Calabria che ha veramente una tradizione nelle Sagre di Qualità possa finalmente spiccare il volo ed avere il ruolo giusto anche sotto questo aspetto. Una Calabria che dovunque noi abbiamo su centinaia di comunità ha delle Sagre e ha delle manifestazioni che ormai sono alcune volte anche centenarie. Beh allora aspetta solamente a noi attraverso il nostro prologo mettere in evidenza queste bellissime manifestazioni che non sono soltanto manifestazioni estive ma sono manifestazioni che occupano veramente per 12 mesi all'anno lo spazio giusto per poter far sì che la Calabria abbia un'immagine completamente diversa da quella che qualcuno magari descrive sempre in prima pagina. Grazie a tutti!